www.malizopoli.it, ennesimo attacco cyber, questa volta la vittima è Synlab, laboratorio dei punti di perlievo attivo in tutta Italia e in tutta Europa, blocco in tutta Italia, cyber attacco, tutti fermi i punti di perlievo. Questo potrebbe succedere a qualsiasi azienda, sì, sì, succede a molte aziende purtroppo, gli attacchi informatici sono quotidiani e quindi questo provoca sicuramente disagio per gli utenti ma anche l'aspetto reputazionale ne va di mezzo. Quindi sì, attiva la formazione dei collaboratori sui comportamenti, sì, la protezione patrimoniale come intendiamo noi, quindi la protezione patrimoniale polizza cyber risk che non risolve l'attacco informatico di mio cugino ma aiuta moltissimo alla protezione dell'azienda, dei propri asset con una copertura assicurativa calibrata bene su ogni azienda. Vi lascio i miei riferimenti per chi volesse approfondire l'argomento su questo fenomeno molto importante di protezione patrimoniale per le aziende. Alla prossima!